Le pensioni minime salgono a 615 euro. Nel 2024 il trattamento minimo di pensione sale. Grazie al recupero dell'inflazione fissato al 5,4%. E grazie alla norma della legge di bilancio per il 2023 che prevede per il 2024 un incremento. Ulteriore del 2,7% per le pensioni che non superano la soglia minima, l'importo sale a 614,77 euro. L'indicazione è giunta dall'Inps che in una circolare ha fornito chiarimenti sugli assegni erogati. A partire da gennaio per tutti i redditi da pensione con quelli. Fino a quattro volte il trattamento minimo. L'importo minimo delle pensioni sociali per il 2024 è di 440,42 euro al mese 5725,46 in un anno. Mentre gli assegni sociali ammonteranno quest'anno a 534,41 al mese.